Questa è una cosa che resterà e segnerà la nostra vita, segnerà in qualche modo tutto il sistema economico, ma anche sociale, le relazioni, difficilmente ce la toglieremo via, così come un brutto ricordo, in qualche modo dovremo riadattare la nostra vita a questo, perché difficilmente potremo eliminarlo del tutto. Qual è il ruolo e il peso delle bufale in questa emergenza? Penso che sia un ruolo fondamentale, perché purtroppo le persone, proprio perché sono in una situazione difficile, in una situazione di paura, cercano continuamente informazioni. E chiunque quindi è motivato a fornire le informazioni che le persone vogliono sentirsi dire, vere o false che siano, diffondere e credere delle bufale è molto pericoloso, perché può distogliere da comportamenti importanti per il controllo della pandemia, o viceversa far fare delle cose che fanno male, che sono pericolose. Quindi è importantissimo ed è gravissima la diffusione di fake news in questo momento. Come si sta comportando la stampa italiana nell'informarci? Tornando un po' al discorso di prima, c'è un problema di quantità e di qualità. Dal punto di vista della quantità, per poter riempire 24 ore al giorno di dirette e 10 pagine di giornali tutti i giorni, bisogna mettere dentro qualunque cosa, qualunque notiziola appena uscita non confermata, qualunque dettaglio anche poco rispettoso delle persone, qualsiasi cosa pur di diciamo cavalcare l'onda in cui finalmente giornali e televisioni che subivano, sappiamo, una crisi da anni, hanno invece in questo momento un grandissimo recupero, perché finalmente la gente vuole leggere, la gente vuole sentire, vuole ascoltare, vuole sapere. Però in questo modo si aumenta tantissimo la percezione del rischio. La percezione del rischio delle persone non dipende solo dalle cose che gli dici, ma anche dalla quantità. E tutto questo martellamento crea uno stato d'ansia e di paura che non fa assolutamente bene, perché adesso noi abbiamo il problema di Covid, che è un problema gravissimo, ma abbiamo anche il problema delle malattie mentali di chi già ce ne aveva, oppure era borderline, era così così, e adesso è sottoposto a uno stress assolutamente senza precedenti. Quindi tutto questo dovremmo tener conto. E poi c'è un problema di qualità, ci sono naturalmente alcuni colleghi che stanno facendo un lavoro ottimo e altri che lanciati in un campo che non è il loro prendono parecchie scivoloni e quindi in assoluta buona fede diffondono qualunque notizia, esca su qualunque giornale cinese senza verificarla, senza avere un'idea dal punto di vista scientifico cosa significa un aneddoto rispetto a uno studio controllato, uno studio pubblicato su una rivista piuttosto che su un'altra, e quindi rischiano di fare anche dei grossi errori. Come possiamo noi informarci bene? C'è una soluzione? Dobbiamo dire le proprie fonti. Allora, all'origine, secondo me, prima di tutto bisogna ridurre la quantità, cioè secondo me se uno sente uno serio alla mattina e uno alla sera è più che sufficiente, non è che durante tutto il giorno uno deve avere sempre la televisione accesa, perché dal punto di vista emotivo diventa difficile. E poi conviene, per chi legge l'inglese, sicuramente il sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il sito del Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, il sito del Ministero, il sito dell'Istituto Superiore di Sanità che si chiama Epicentro. Qui abbiamo le notizie essenziali. Se c'è qualcosa di importante che dobbiamo sapere, sicuramente qui lo troviamo. Qual è il ruolo della comunicazione e della divulgazione scientifica in questo contesto? Soprattutto che cosa può dare in più? Il giornalista che si occupa di altre cose, di cronaca, non ha gli strumenti proprio per capire, individuare, riconoscere una notizia scientifica senza fondamento da una che ce l'ha. Certamente c'è anche una professionalità che può essere sfruttata. Noi lo stiamo facendo sul web, gratuitamente, sui social, però sarebbe anche giusto che venissimo utilizzati di più dai giornali. Riguardo anche le strategie che sono state messe in atto dai diversi stati, può essere per esempio come riferimento quella della Cina, forse simile a quella che poi dopo è stata presa ad esempio dall'Italia, oppure quella della Corea del Sud, oppure ancora quella del Regno Unito. Cosa ne pensa lei? Allora, prima di tutto, questo è un esempio di cattiva informazione, perché se i nostri colleghi avessero guardato la conferenza stampa di Boris Johnson affiancato dai suoi consulenti scientifici e medici, avrebbe visto che non è assolutamente stato detto quello che poi è stato risultato in Italia. Non è vero che la strategia inglese si basa sul lasciare correre il virus e creare un'immunità di gruppo. Questo assolutamente non è stato detto. Il primo provvedimento è stato quello di dire a tutti coloro che avevano sintomi anche lievi, febbre, tosse secca, di stare a casa inizialmente per una settimana e poi per 15 giorni. Questo è un messaggio semplice, chiaro a tutti, che può capire la persona che non ha studiato così come il docente universitario, ma che era fondamentale e che da noi, in mezzo a tante piacche su quanto sopravvivono i virus sulle superfici, se è stato il pipistrello o il pangolino, se si possono aprire i pacchi provenienti dalla spina o mangiare al ristorante cinese, quest'unico fondamentale messaggio è stato messo in secondo piano. Invece gli inglesi giustamente hanno detto che questa è la cosa più importante. In Gran Bretagna si è detto abbiamo un piano, questo piano si chiama piano pandemico, è del 2013, è online a disposizione di tutti e quindi tutti possono vedere i criteri che sono stati utilizzati nelle diverse fasi per rispondere alla minaccia, con delle strategie diverse. Saranno giuste, saranno sbagliate, saranno più o meno vincenti, nessuno oggi può dire la mia strategia è la migliore, perché è una minaccia nuova, non lo sappiamo e i conti li potremo tirare non alla fine dell'estate, ma tra due anni, quando vedremo poi veramente l'evoluzione delle cose come andrà. Per quanto riguarda gli altri due modelli, il modello cinese, come dicevi, è quello a cui ci siamo un po' rifatti noi, pur tenendo conto del fatto che da noi non c'è uno stato di polizia, sicuramente i controlli sono meno severi, c'è una maggiore elasticità, per fortuna, e poi c'è il modello coreano, prima di tutto si è basato sull'anticipazione della crisi, nel senso che non appena sono state pubblicate le sequenze genetiche del virus, tutte le aziende biotecnologiche coreane hanno cominciato a produrre a manetta i test per poter verificare. Tutti i passeggeri che arrivavano dalla Cina soprattutto, e poi tracciarli, hanno fatto scaricare a tutti una app obbligatoriamente, in cui obbligatoriamente dovevano essere tracciati per dove andavano e dove dovevano segnalare tutti i loro sintomi, mi sembra tre volte al giorno, e poi anche tramite le telecamere, anche tramite tutta una serie di strumenti molto invasivi della privacy, che non so fino a che punto in Europa sarebbero stati accettati tanto facilmente, sono stati quindi ai primi sintomi isolati, ma isolati vuol dire, non gli hanno detto stai chiuso in camera tua, voleva dire che se tu hai un ragazzino che ha dei sintomi, lo prendono e lo portano in una struttura dove lo tenevano controllato, anche questo non so fino a che punto sarebbe accettato da noi, e idem tutti i contatti. Quando potremmo iniziare a pensare di poter tornare a una vita normale o che almeno le assomigli? Io penso sinceramente che sia molto difficile o comunque sicuramente imprudente a riaprire tutto ai primi di aprile, cioè io mi aspetto che questo decreto sarà prorogato. Poi quanto e come dipende molto da come andranno le cose, nel senso che ovviamente se al centro-sud nei prossimi giorni non si manifesterà l'ondata che temiamo, perché tutto sommato evidentemente siamo riusciti a contenerla al nord, questo già vorrebbe dire che nel momento in cui poi tende a estinguersi qua, si può mollare un po' di più la rete. Se invece avremo anche al centro-sud situazioni come quelle di Milano, di Piacenza e Cremona o di Bergamo e Brescia, le cose naturalmente peggioreranno. Quindi sicuramente i prossimi giorni saranno fondamentali per capire questo. Noi come singolo, che contributo possiamo dare ogni giorno per fare in modo che questo coronavirus di fatto si fermi nel dilagare. Primo, davanti anche a dei sintomi lievi, due colpi di tosse secca, un po' di febbricola, un senso di malessere, un po' di dolori muscolari, isolarsi il più possibile e evitare di mette e esporre gli altri. Lavarsi le mani molto più di quello che facciamo e rendere a tutti quelli con cui siamo in contatto più facile, questa che io ieri sera in un post di Facebook che ha avuto un successo incredibile, ho definito una maratona di gruppo. Cioè questa non è una corsa a 100 metri in cui chi è il più bravo arriva primo, questa è una maratona di gruppo che è una specialità olimpica che non esiste ma che mi sono inventata io ieri sera, una maratona in cui si vince più numeroso il gruppo che arriva in fondo. Quindi aiutiamoci il più possibile l'un l'altro, ci sono state 30.000 denunce alle persone che venivano viste fuori, che uscivano, no, cioè pensiamo che se uno esce forse ha delle ragioni che noi non capiamo, magari anche delle ragioni emotive, un attacco d'ansia, bisogno di fare due passi, l'importante è stare sempre a due metri di distanza dall'altro, a un metro e mezzo di distanza dagli altri, non accaniamoci contro gli altri, aiutiamoci l'un l'altro in questa lunga maratona, perché purtroppo non finirà dopo domani questa cosa.